Siamo alla presentazione della Gazzetta di Milano a rappresentare il calcio dilettantistico Lombardo e c'è Giorgio Recino, il bomber della Giana. Giorgio, per te è una grande emozione dover rappresentare il calcio dilettantistico Lombardo qui in questa grande manifestazione dove c'è il top dello sport Lombardo e quindi nazionale? Sì, sì, assolutamente sì, è un'emozione davvero forte perché sono praticamente in mezzo a tutti i professionisti più importanti a livello sportivo quindi è davvero un'emozione grandissima. Insomma c'è qua il meglio dello sport Lombardo e quindi nazionale, che differenze sono secondo te tra e se ci sono tra lo sport che pratichi tu e magari quello al top? Secondo me il campo da calcio è lo stesso di quello della Serie A, quindi le emozioni sono le stesse. Un'ultima domanda invece sulla tua inizio di stagione, avete iniziato alla grande come il Giana. Sì, sì, alla grandissima, il nostro obiettivo rimane lo stesso identico dell'anno scorso, cioè vincere il campionato e speriamo di farlo. Grazie.